Questa volta Spasso nell'orto è dedicato ai bambini e gli orti dipinti sono sempre fonte di ispirazione perché Giacomo Salizzoni si diverte a divertire, a stupire frequentatori grandi e piccoli che vengono qua. E per i bambini che cosa prepari di solito? Giochiamo molto con i semi però tra tutti i giochi che facciamo con i semi quello che sicuramente apprezzano di più quello della bacchetta magica. Cosa succede? Intanto parte nascendo con dei materiali di riuso e di riciclo come la carta, viene impastata con dell'acqua e dei semi, gli si dà una forma e poi la si pressa facendo uscire l'eccesso d'acqua e la si fa seccare e alla fine il risultato è questo. Giacomo vogliamo far vedere gli step che occorrono per costruire la bacchetta magica? Senz'altro. Si parte con della carta, si strappa a piccoli pezzettini, la si mette poi in una bacinella d'acqua, la si lascia magari macerare qualche ora, meglio sarebbe una notte. Dopodiché con l'ausilio di questo meraviglioso elettrodomestico non ne mettiamo troppo perché ci vuole veramente molta forza, infatti va sempre aggiunta molta molta acqua. Dopodiché iniziamo il frullaggio. Finito di frullare, io prendo il mio contenitore, dreno un po' questo composto perché è troppo liquido ovviamente adesso. Perché si deve scolare bene. Deve scolare un po' di più, sì. Questo composto lo dobbiamo colorare. Colorante alimentare, molto importante, in polvere perché è molto efficace. Io a questo punto suggerisco l'uso di questi pratici guanti perché il colorante è micidiale. A questo punto lo mischiamo usando anche le mani. Già cominciano a tingersi. Ora dobbiamo prendere la nostra formina, posizionarla già sulla parte dove vogliamo andare a fare la nostra impressione. Prendiamo un po' del nostro composto, lo strizziamo di già. Quando ha poi questa consistenza, che quindi è facile da lavorare, io pratico una specie di piccolo affossamento col dito, prendo un po' dei miei semi di girasole, l'impasto all'interno e la vado a mettere dentro. Alla stellina o alla forma che vogliamo dargli. Con le dita vado a spingere già in tutti gli angoli, poi mi ero fatto già una specie di stampino e poi strizzo. Mi posso anche aiutare con un pezzo di manico da scopa. Fatta una certa pressione che non deve essere esagerata, ma sufficiente, io posso staccare questo elemento, sempre aiutandomi con questo bastoncino. Lo si fa uscire piano piano e si ottiene questo sandwich che noi con accortezza staccheremo. Ma che bello! E questo qui è poi da lasciare seccare parecchio tempo, almeno un giorno, l'ideale al sole. Perché così evita di rimanere umido, che favorirebbe altrimenti la germinazione. E una volta seccato, dopo aver fatto un buco con un trapano, perché diventerà molto dura questa, gli infiliamo un po' di colla naturale per tenere ferma questa bacchettina e se abbiamo avuto l'accortezza, possiamo scrivere nella bandierina il nome. Girasoli. In modo tale che quando noi avremo impiantato, trapiantato questa cosa, sappiamo di cosa si parla. Risultato finale, questo. Il bambino gioca Harry Potter, ma poi quando vuole fare la vera magia, la interra, si ricorda quello che ha piantato grazie al nome che è stato scritto sopra, col tempo farà germinare i semi dentro la carta. Chi ha fatto anche delle piccole confezioni bellissime. Quindi è veramente un gioco bellissimo che mamme, papà, nonni, zii, maestri, maestri possono divertirsi a fare con i bambini. Buon divertimento a tutti!